Omicidio Said, chiesti 18 anni per l'imputato, slitta la sentenza e il giudice ascolterà un altro testimone. Crisi tessile, nuovo appello del distretto al governo, con fartigianato la regione si faccia portavoce delle istanze condivise. Piazza delle carceri, sabato l'ennesima lite e ride sulle auto nei dintorni. Qualità della vita a Prato perde 10 posizioni nella classifica d'Italia oggi, male, sanità e sicurezza. Nuova sconfitta del Prato che perde ad Alto Pascio, la Zenit torna a vincere, superato il tutto cuoio. Buonasera dalla nostra redazione, alle battute conclusive il processo con rito abbreviato per l'omicidio di Said Jador, il cui corpo fu dato alle fiamme e occultato in un capannone a San Paolo. Chiesti 18 anni per l'imputato, il giudice prima di emettere la sentenza ascolterà un altro testimone. Slita la prossima udienza, la sentenza per l'omicidio di Said Jador, il 36enne tunisino scomparso il 18 aprile 2023 e trovato cadavere parzialmente abbruciato in uno stabile abbandonato di via San Paolo tre settimane dopo. A processo con rito abbreviato c'è Abdel Hadi Ajaji, 51enne marocchino coinquilino in subaffitto della vittima per il quale la procura ha chiesto 18 anni di reclusione per omicidio volontario. L'uomo, assistito dall'avvocato Enrico Martini, si è sempre proclamato innocente. Nell'udienza preliminare si è discussa anche la posizione di un 56enne italiano, affittuario della casa in cui vivevano i due nordafricani, accusato di aver aiutato Ajaji a nascondere il cadavere di Said. Nell'udienza di oggi, in cui era attesa la sentenza, il GIP Malerba ha ritenuto di ascoltare un altro testimone, un carabiniere che sarà convocato per riferire su un sopralluogo effettuato nello stabile nei giorni successivi alla scomparsa di Said, quando secondo l'accusa il corpo doveva già essere stato occultato nell'ex fabbrica. Le ricerche in quella circostanza dettero esito negativo e il cadavere fu trovato soltanto diversi giorni dopo, il 9 di maggio. Del caso, sulla scorta della denuncia di scomparsa dell'ex moglie di Said, si occupò anche chi l'ha visto. La donna ed altri familiari in Marocco avevano ricevuto messaggi al cellulare con misteriose foto di terreni e case abbandonate dove cercarlo. Secondo gli investigatori della squadra mobile, che ha passato al vaglio tabulati e intercettazioni telefoniche e ha ascoltato diversi testimoni, l'omicidio sarebbe maturato al culmine di una lite nella stanza in cui entrambi vivevano, Said avrebbe accusato Abdel Hadi di aver intascato il provento di una rapina ad un cittadino cinese, anziché spartirlo. Il complice avrebbe ribattuto che di soldi nella borsa rubata non ce n'erano. Secondo l'autopsia, la vittima sarebbe morta in conseguenza di traumi multipli, tra cui fratture al cranio, compatibili con percosse con un oggetto contundente, mai ritrovato. Il cadavere, sempre secondo l'accusa, fu poi trasportato nello stabile abbandonato e qui dato alle fiamme, nel tentativo, non riuscito, di distruggere ogni traccia del delitto. Il corpo di Said, parzialmente bruciato, fu riconosciuto anche per la presenza di alcuni tatuaggi. E si è riunito stamani a Firenze il tavolo sulla crisi del settore moda. Con fartigianato torna a chiedere che siano inserite nella manovra misure quali il rifinanziamento della cassa integrazione e la moratoria degli F24. Il presidente della regione Gianni pensa a coinvolgere grandi gruppi nazionali e stranieri attivi in Toscana. L'assessore Squittieri attacca il governo. Non c'è la consapevolezza che serva una risposta immediata. Tutti in pressing sul governo. Il tavolo regionale sulla crisi del settore moda, tenutosi stamani a Firenze e convocato dalla regione dopo la manifestazione dei sindacati della scorsa settimana, si è concluso con un aggiornamento dei lavori al prossimo 25 novembre, quando saranno presenti anche i parlamentari. All'esito dell'incontro di oggi, con fartigianato ritiene fondamentale accelerare per ottenere misure essenziali alla tutela e al rilancio di un settore in difficoltà. Moreno Vignolini, presidente nazionale di con fartigianato moda, chiede che le misure concordate al tavolo del distretto vengano incluse nella legge finanziaria attraverso un emendamento promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra gli interventi ritenuti prioritari ci sono la moratoria sugli F24 per il 2025, il rifinanziamento della cassa integrazione per le imprese con meno di 15 dipendenti, la risoluzione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo con una formula di saldo e stralcio al 50% e il rifinanziamento del credito d'imposta al 50% per investimenti nell'industria 4.0. Il presidente Vignolini sottolinea l'urgenza di un'azione coesa e chiede alla regione di diventare portavoce autorevole di queste istanze. Da parte sua il governatore Eugenio Gianni da una parte raccoglie l'appello e richiama il governo ad interventi rapidi fin dalla legge di bilancio, dall'altra preannuncia una riflessione della stessa regione su azioni tese a salvaguardare il tessuto imprenditoriale, interloquendo anche con i grandi gruppi nazionali e stranieri attivi in Toscana che hanno un grande ruolo sulle dinamiche di filiera. Più dura l'assessora alle attività produttive del comune di Prato, Benedetta Squittieri, sono a rischio interi pezzi della filiera produttiva e tutti gli appelli al governo sono caduti nel vuoto, dice Squittieri, che sottolinea come neppure le otto settimane di cassa integrazione in deroga concesse, siano ad oggi tecnicamente utilizzabili per mancanza dei decreti di applicazione. A quanto pare non c'è la consapevolezza che serva una risposta immediata, afferma Squittieri, che si dice invece interessata ad alcune misure citate dal presidente della regione Gianni e dall'assessore Marras, in particolare il sostegno agli investimenti del distretto attraverso una forma negoziale, così come previsto dall'ultima modifica delle norme regionali. L'ite di sabato sera in Piazza delle Carceri e non è la prima volta, come TV Prato ha già raccontato in passato, ride sulle auto in sosta nelle vie dei dintorni, commercianti e residenti esasperati, anche se c'è poca voglia di parlare. È sabato sera e Piazza delle Carceri diventa terreno di scontro. Una rissa iniziata verso le ore 22 dai contorni e dalle motivazioni ancora da chiarire. La polizia è arrivata quando si era già conclusa. Una di quelle notizie di cronaca in cui lo sfondo fa più notizia dell'episodio in sé, visto che le conseguenze non sono state gravi. Non è la prima volta, infatti, che Piazza delle Carceri è teatro di risse e liti, confermandosi la piazza dai due volti, di giorno luogo privilegiato dei giochi dei bambini, di sera e di notte luogo in cui si transita e non ci si ferma. Tra i commercianti c'è poca voglia di parlare, anche se il tema è sentito. L'illuminazione di questa piazza va rivista, assolutamente. Ci sono delle esigenze della conservazione dei beni culturali, tutti, non solo il castello ma anche la basilica e anche l'abside di San Francesco e anche il monumento ai caduti e le altre case ben ristrutturate che danno sulla piazza. È una bellezza l'incontro. I ragazzi vengono come stormi, può succedere anche delle parole d'ordine da scontro, ma tutto questo deve far riflettere noi adulti, noi cittadini, noi amministratori. Non è possibile che la delusione, l'amarezza, il non senso del vivere debba sfociare in un darsi a botte reciproco. Oggi alle 12 si sono presentate due pattuglie di carabinieri per controlli in zona, ma sono le ore serali il problema e a preoccupare i residenti e commercianti non è solo la piazza quanto le vie limitrofe. La parte retrostante del castello continua ad essere luogo di brutte frequentazioni. Davanti alla scuola dell'infanzia Villa Caritas in via Dante, le spaccate alle auto sono da mettere in conto, come sta bene chi parcheggia lì la propria auto per andare al lavoro per poi riprenderla a fine serata. Come Fausto Bagattini nel ristorante Tio Pecaldi si invia sette soldi che ieri per la terza volta in due anni ha trovato i finestrini rotti. Per fortuna, racconta su Facebook, aveva rinnovato la settimana prima la sua polizza cristalli. Prato perde 10 posizioni in un anno e si colloca al 39esimo posto sui 107 comuni italiani capoluogo di provincia nella classifica sulla qualità della vita stilata dal Quotidiano Italia Oggi in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. La ricerca prende in esame 93 indicatori di base inerenti 9 macrotemi. Al vertice della graduatoria si conferma Milano, seguita da Bolzano, Monza, Bologna e Trento. Prato ha buone performance nel settore degli affari e lavoro dove guadagna 15 posizioni e si colloca 15esima in Italia. Bene anche la voce ambiente, 22esima posizione, 6 guadagnate rispetto al 2023. Nella salute Italia Oggi ravvede un tracollo per Prato scesa di 47 posizioni al 64esimo posto. Male anche la sicurezza dove nonostante siano state recuperate 8 posizioni, la classifica nazionale ci vede 87esimi. Negativi anche gli indicatori legati all'istruzione che valgono l'81esimo posto. La demografia e la presenza di giovani anche in forza della spinta migratoria collocano Prato al sesto posto nazionale per gli indicatori di popolazione. Invariata la performance sul turismo che ci vede 49esimi. E cambiamo argomento. Torna all'appuntamento con i tè di Toscana Oggi, i sette incontri di taglio culturale da novembre a maggio pensati per i lettori del settimanale. Si comincia questo mercoledì con padre Attilio Rossi che racconterà l'esperienza di missionario in lingua cinese a Taiwan e Prato. Sette incontri per stare bene insieme parlando di arte, cultura e spiritualità, ma soprattutto gustando un buon tè in amicizia. Tornano i tè di Toscana Oggi, l'iniziativa promossa per i lettori del settimanale, giunta alla 19esima edizione. La formula rimane invariata. Da novembre a maggio, il terzo mercoledì del mese alle ore 16, nel complesso di San Domenico, è possibile passare un pomeriggio in una elegante sala da tè, dove si potranno gustare dolci e pasticcini e ascoltare interessanti relatori. Si comincia mercoledì 20 novembre con padre Attilio Rossi, da un anno parroco del Sacro Cuore. Titolo dell'incontro da Taiwan a Prato, la missione in lingua cinese dei padri verbiti. Il 18 dicembre l'ospite sarà Matteo Biffoni, che racconterà i propri dieci anni da sindaco di Prato. Il 2025 si apre con la storica dell'arte Virginia Barni, autrice di un nuovo libro sulla Sacra Cintola, con alcune importanti novità sulla preziosa reliquia, simbolo della città. L'incontro si tiene il 15 gennaio. Poi, come detto, si prosegue fino a maggio. Ai tè di Toscana Oggi tutti possono partecipare. Per farlo occorre essere abbonati al settimanale. Chi vuole può fare una sottoscrizione all'ingresso. Per informazioni, telefonare al numero 0574 605386 o scrivere un'e-mail a prato-toscanaoggi.it In occasione delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della riapertura del Teatro Metastasio, la Camerata Strumentale ha eseguito un concerto che ha come titolo proprio i versi del poeta Pietro Metastasio. Se il resto sul Lido, se sciolgo le vele. Festeggiamo i 60 anni dalla riapertura del Metastasio, dopo anni di lavori di ristrutturazione che sono iniziati negli anni 50. 60 anni che riportano la musica dentro questo magnifico teatro. Per noi è molto importante aver avuto questa collaborazione con la Camerata Strumentale, un concerto speciale per questi 60 anni, un ritorno anche della musica dopo anni molto intensi di prosa che forse hanno tenuto un po' lontano la musica da questo teatro, ma siamo felicissimi di festeggiare con la Camerata. Per la Camerata Strumentale di Prato una nuova occasione di incontro, collaborazione e armonia con il Teatro Metastasio. Davvero per noi è un grande privilegio. suonare nella meraviglia di questa sala per la quale il cuore dei pratesi batte sempre con la musica che è stata composta per i versi di Pietro Metastasio, colui che ha dato il suo nome al teatro, che i pratesi hanno eletto a simbolo del loro teatro. Grande poeta, il più grande poeta del settecento europeo, che ha portato l'italiano in tutta Europa come idioma legato squisitamente alla musica e alla rappresentazione degli affetti. Svecciata, amico, chistori, amico, salite, amico, salite, amico, salite, amico, salite, amico, E ci spostiamo a Montemurlo dove ieri la pioggia ha condizionato la Festa dell'Olio. Ce ne parla Maddalena Ciambellotti. Si è conclusa l'insegna della pioggia l'ultima giornata della 29esima edizione della Festa dell'Olio presso la Rocca di Montemurlo. Il brutto tempo però non ha scoraggiato gli organizzatori tra i quali il Comune di Montemurlo, l'Associazione Il Borgo alla Rocca ed il Comitato Festa dell'Olio che hanno confermato i numerosi eventi previsti al chiuso. Ad accogliere i visitatori del borgo una colorata mostra del pittore toscano Magazzini e diversi presepi artigianali allestiti nella pieve di San Giovanni De Collato. Sotto il porticato secentesco per il cui restauro è stata promossa una raccolta di fondi, sono stati ospitati alcuni stand con prodotti artigianali e specialità tipiche del territorio, dolci e caldarroste e naturalmente l'assaggio dell'olio extravergine d'oliva delle colline montemurlesi. Molto interessante poi la visita all'antico frantoio della Rocca per scoprire il processo che trasforma le olive nel prezioso oro verde e nell'occasione acquistare prodotti a chilometri zero. La manifestazione quest'anno è stata impreziosita dall'esibizione del coro gospel Black and White. Una festa sì sottotono per il mal tempo ma è una festa piena di contenuti. La festa dell'olio non è solo olio ma è cultura, per questo tutte le volte che apriamo questa festa abbiamo tantissime iniziative collaterali dove c'è il bello, c'è l'arte, c'è le mostre. Montemurlo perché ho tanti amici, come si dice oggi l'allocation è eccezionale, persone affabili, amici, quindi per me è una grande soddisfazione esporre qui. L'olio si conferma sempre più l'oro verde del territorio. Sì 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 sì, è veramente una specialità, quest'anno poi con queste olive super sane ha un'acidità bassissima. L'olio è di altissima qualità. L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Vaiano ha festeggiato il ventesimo anniversario della fondazione. L'evento si è tenuto ieri a Villa Guicciardini alla presenza di soci, amici e rappresentanti delle autorità. Un'occasione per ripercorrere tutta la storia del gruppo e per festeggiare il volontariato, risorsa indispensabile per la comunità. E siamo allo sport, il calcio, ancora una battuta d'arresto per il Prato sconfitto in casa della capolista Tau Alto Pascio. Bene invece la Zenit che torna alla vittoria superando per 3 a 1 il tutto cuoio e domenica prossima al lungo Bisenzio in programma il derby Prato-Zenit. Zenit alle stelle, Prato in castigo. La dodicesima giornata del campionato di Serie D, Gironedì, promuove a pieni voti la Zenit che supera in casa il tutto cuoio per 3 a 1 e fa sprofondare in classifica invece il Prato superato dalla capolista Tau per 1 a 0. La squadra bianco-azzurra gioca un buon primo tempo d'Alto Pascio, poi si eclissa nella ripresa. La rete di Bruzzo affonde il Prato e il tecnico Marco Mariotti nel dopo partita chiede esplicitamente rinforzi e rimanda al mittente ogni addebito. Sono arrivato qua un mese fa, questa è la stessa partita che ha fatto il mio predecessore, 5 punti lui e 6 io. Adesso dico pubblicamente che questa squadra è stata fatta male, non c'ha un senso e se ci vogliamo salvare servono 3-4 giocatori di spessore, punto. Non voglio analizzare niente perché è la seconda settimana di eseguito che il primo tempo dovremmo chiudere 3 a 0 e invece poi andiamo a casa con 1 a 0, perciò non faccio nessun'altra considerazione. Ho tirato le somme adesso, siccome abbiamo perso la responsabilità mia che è stato allenatore, ma siccome però non voglio essere il capo ispiratorio di altre persone perché questa squadra secondo me è stata fatta malissimo per la categoria e per il girone, perciò mi raffronterò un'altra volta col Presidente abbiamo bisogno di 3-4 giocatori di spessore, punto. Questa è la mia analisi, sempre con sorriso come dico io perché i giocatori hanno dato quello che avevano, ma vuol dire poco e così facciamo fatica a salvarci. Polemiche a parte, il Prato si ritrova a quota 11 in classifica in piena zona play-out, appaiato alla Zenit che supera invece in casa il tutto cuoio per 3 a 1. La squadra Amaranto vince e convince, Cellai di testa fa bingo nel primo tempo. Il tutto cuoio replica nella ripresa con Conti Pelli, ma poi deve arrendersi alla reazione dei lanieri. Il raddoppio è di Thomas Quassi al termine di una pregevole triangolazione, mentre la terza rete è da Cineteca e la realizza il bomber tascabile Matteo Falteri. 3 a 1 per la Zenit e festa per gli Amaranto che interrompono la striscia negativa e agganciano il Prato in classifica. Pana, praticamente avevamo preparato la partita così, è venuto bene tutto, quindi bravi loro, peccato per aver preso questo gol su una punizione e poi è venuto da un errore in ripartenza e poi dopo questa palla sul secondo palo non l'abbiamo letta bene. Questo forse è l'unione della partita, poi ragazzi sono stati bravissimi, sia quelli hanno iniziato la gara, quelli poi sono subentrati. E domenica a lungo Bisenzio c'è il derby Prato-Zenit, appuntamento con la storia per la nostra città, ma più che altro una sfida a salvezza, insomma per la serie Si salvi chi può. Il basket è strapistoia lotta alla pari per gran parte della gara contro la schiaccia sassi Trento, ma di nuovo sbaglia alcune scelte nel finale e si arrende alla capolista al servizio di Giacomo Mazzanti. A passare al Palacarrara è la capolista Trento, 88-92 il risultato finale con i bianconeri che resistono al 10-0 di parziale dell'estra nel finale e portano a Trento i due punti importantissimi per rimanere in vetta alla classifica. Pistoia gioca bene e sfrutta la vena di Christon, ma sbaglia nei momenti clou. Rowan e Childs sbagliano un paio di attacchi un po' troppo velenosi per poter prendersi i due punti. Rowan, poi presentatosi in sala stampa, ha parlato così di quello che serve alla squadra per migliorarsi. Pensiamo la stessa cosa, dobbiamo migliorare gli ultimi attimi della partita, ora abbiamo un nuovo allenatore, sono due settimane che è qui, ora abbiamo un break di due settimane e fra qualche giorno ritorniamo ad allenarci tutti insieme per migliorarci. Al termine della sfida tra Pistoia e Trento ha parlato anche Zare Markowski, il nuovo allenatore del Pistoia Basket, lamentando uno scarso talento offensivo da parte dei biancorossi che volevano nel finale puntare sul duo Schillings e Christon, ma purtroppo qualcosa per la difesa di Trento è saltato. Dipende dal limitato talento offensivo che abbiamo, certamente in difesa i ragazzi dalla panchina devono dare contributo, ma siamo limitatissimi nel talento offensivo, perciò anche oggi abbiamo segnato più del dovuto, ma essere concentrati su quelli, poi è una domanda sempre dove dobbiamo verificare la risposta se anche con i ragazzi dalla panchina, ma io penso che in attacco siamo limitati proprio per quello. Ancora Basket, terza vittoria consecutiva per i Dragons, che a Fucecchio si impongono per 58 a 64, rimanendo a quattro punti di distanza in seconda posizione dalla capolista Montevarchi, ancora punteggio pieno. Buona la partenza dei Rosso Blu, avanti sia la prima sirena che all'intervallo, al rientro in campo Fucecchio prova ad accorciare, sfruttando qualche errore in attacco dei Pratesi, che però riescono a controllare la gara e a centrare la vittoria. Vi ricordiamo mercoledì alle ore 22 su TV Prato, l'appuntamento con We Are Dragons, con approfondimenti sulla gara di ieri e sul prossimo turno, che vedrà la formazione pratese impegnata domenica prossima alle Toscanini contro San Vincenzo. La palla a volo femminile, vittoria sofferta, ma fondamentale per l'Ariete Prato, che ha superato la 1 Maglia Valdarno 3-1. Un match dai due volti con la formazione pratese serena nei due parziali, meno nella seconda parte. Alla fine però l'Ariete è riuscita a portare a casa una vittoria importante. Ascoltiamo le dichiarazioni di Giulia Bertelli. È stata una partita che, insomma, abbiamo un attimo perso lucidità in alcuni momenti e quindi, diciamo, abbiamo un attimo regalato dei punti che in alcune circostanze potevano essere importanti e determinanti per la partita. Però comunque, in ogni caso, siamo contenti di questa vittoria. Siamo andate un attimo sul calare, forse ci siamo un attimo adagiate anche al loro gioco. Però comunque siamo una squadra giovane, dobbiamo lavorarci sicuramente e pian piano, secondo me, verrà fuori una sicurezza maggiore e maggiore consapevolezza. Vi ricordiamo che la partita tra Ariete Prato e Valdarno sarà trasmessa su TV Prato domani martedì 19 novembre alle ore 16.30. Ed è il momento dell'agenda. Diamo uno sguardo agli appuntamenti di domani. Per la rassegna Un'autunno da sfogliare, alle 16 alla Biblioteca Lazzarini si terrà il terzo appuntamento del ciclo Italia nel cinema, il cinema in Italia, con Federico Berti. Alla Camera del Lavoro ci sarà l'incontro Educhiamo al rispetto, dalla violenza al rispetto, promosso nell'ambito delle iniziative dedicate alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Al Garibaldi 1020 ci sarà la proiezione del film Quattro figlie, un documentario recitato che prende spunto da una storia realmente accaduta. Per il terzo incontro dei concerti Armonia in Canto, organizzati dalla Camerata Strumentale di Prato alla Villa del Palco, andrà in scena l'esibizione di chitarra ai cameristi dell'orchestra giovanile toscana. Infine per la rassegna November Jets, al Teatro Politeama si terrà Nubes, l'esibizione del pianista Alessandro Lanzoni. Per questa edizione è tutto, vi lasciamo al meteo, grazie per l'attenzione, arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato all'armi, una sicurezza da Oscar. Buonasera e ben ritrovati dalla sala meteo del Consorzio Lamma, dall'immagine alle mie spalle, domino ai colori tendenti al blu. Questo sta a significare che un'ampia saccatura, un ampio sistema depressionario sul centro-nord Europa si spingerà fino in area mediterranea e porterà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto da mercoledì, giovedì, con un'area più fredda e instabile e con conseguente calo termico, anche piuttosto accentuato. Andiamo per gradi però, andiamo a parlare della giornata di domani, una giornata grigia, soprattutto al centro-nord, con piogge sparse, andrà meglio al sud, ventilazione dai quadranti occidentali, venti che tenderanno un po' a rinforzare, soprattutto in serata, venti forti o molto forti, soprattutto a nord di Capraia, sulla costa settentrionale, dove sono attese delle mareggiate a partire dalla sera. Nel corso del pomeriggio ancora qualche pioggia, sulle zone più settentrionali della regione, andrà meglio sempre sulle zone meridionali, caleranno leggermente le temperature. Per la giornata di mercoledì, infine, giornata all'insegna della variabilità, con piogge e rovesci sparsi in mattinata al centro-nord, poi il transito della perturbazione si sposterà sulle zone meridionali e orientali, con miglioramento sul nord-ovest, caleranno le temperature tra il pomeriggio e la sera, potranno favorire anche il ritorno a qualche modesta nevicata sulla dorsale appenninica. Le temperature caleranno proprio nella seconda parte della giornata. È tutto, grazie per l'attenzione e una buona serata.